Abbiamo avuto il piacere di ospitare Francesco Tunucci, il fondatore della Città dei Bambini e delle Bambine, un progetto culturale che portiamo avanti da anni perché dobbiamo guardare la città anche ad altezza di bambino. Sembra un'esperienza molto interessante, spero che vada avanti, sono a loro disposizione per gli sviluppi e stamattina mi sembra che abbiamo comunque cominciato a seminare. Città a misura di bambino significa una città proiettata nel futuro e proiettata all'internazionalizzazione.